Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie della Pixelmon Allora, come vedete lì ragazzi, abbiamo aggiunto una nuova mod Infatti, stiamo parlando di una mod, niente male, che il suo nome di ATA vero e proprio è Pixelmon Go Infatti, è una mod che aggiunge i Pokestop, che potranno anche darci delle uova quando vorremmo Ovviamente esistono 3 tipo, anzi 4 tipo di uova Quelle uova della prima generazione, quindi 2, 5, 10 km che daranno i Pokémon di prima generazione Oppure, ci saranno i Pokémon che ci daranno altre cose di altre generazioni Quelli sono tipo i Pokémon, tutti quelli rimanenti che è possibile recuperare tramite nuove Ora, dobbiamo fare una cosa molto importante, andare qui sopra, fare il tasto destro, è sufficiente entrare E abbiamo recuperato un po' di oggetti Infatti ragazzi, quando entriamo dentro, possiamo recuperare, a parte le bacche, anche molta roba figa Tipo un movimento simbolo, che è una TM Ovviamente però, entro un tosti di tempo, possiamo un po' riparare altra roba Perché nel senso che non possiamo andarci sempre dentro Infatti, se ne entriamo dentro, clicchiamo qui sopra Ci dice che fra 180 secondi potremmo ritornare al Pokestop Ovviamente potremmo trovarne in giro altri, cosa che faremo sicuramente oggi Però voglio prima tornare a casa ragazzi, perché ho bisogno di cibo e ho davvero tanta fame Come potete vedere qua ragazzi, ho fatto una bellissima scalinata che mi porta fino sopra Ho deciso di optare per questa scalinata molto tranquilla, perché l'altra in realtà mi perdeva troppo tempo E non era proprio così piacevole a lungo andare Quindi ho deciso un attimo di optare per ora questa soluzione E poi in futuro magari potremo sistemarla meglio facendo altre cose Nel frattempo comunque stiamo andando abbastanza bene Una cosa che però voglio fare sicuramente presto 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 È una zona delle chest E utilizzerò proprio questa zona qua vicino casa Come molo d'attracco per le merci E infatti utilizzerò proprio questo posto figo per poterci mettere le merci da una parte E poi magari in futuro o comunque più tardi se riusciamo Faremo anche un po' di ricerche di Pokémon Nel frattempo il secondo giocatore del server Che forse voi conoscete perché avete visto sicuramente la nostra live Mi ha detto che in realtà le Pokémon si possono fare solo con gli ningotti Infatti questa parte ragazzi si può fare, mentre le altre no Perché? Perché c'è un bug che non mi ero accorto di avere Relativo a tipo il crafting con il ferro Però meglio così ragazzi perché tanto a noi interessa per ora Utilizzare questa roba e utilizzare addirittura tipo questi cosetti Per fare direttamente le Pokémon Senza utilizzare quelli normali che sicuramente sono un po' una merda Che non mi piacciono molto Quindi utilizzeremo per ora sufficientemente queste gicocche E poi in futuro vedremo di fare altro Però la cosa che voglio fare è sicuramente almeno ora come ora E perché ho così tanti... Allora questo chisel di roccia Infatti dicevo diamine perché ho così tanta roba Una cosa che voglio fare sicuramente adesso è mettere a cuocere un po' di roba Perché voglio mettermi a fare un paio di Ultra Ball oggi se riusciamo Quindi metto a cuocere un bel po' di gicocche gialle E un po' di gicocche nere che sono gicocche non gicocche E così facciamo un po' di Poké Ball che poi in realtà sono le Ultra Ball Così devo riuscire a catturare anche qualche Pokémon oggi In ogni caso una cosa che voglio fare è solamente prima di completare tutta questa cosa E andare a prenderci almeno un Larvitar Questo è quello brutto però Sì mi sembra quello un po' merda Esatto E fare VT4 E andare a fare VT4 Con formos Lo buttiamo via ragazzi E magari troviamo cose di figo Tipo un Paras Che anche lui è una merda Va bene Ho creatato un po' di slab ragazzi Che possiamo utilizzare Per tipo mettere la roba qui Ovviamente utilizziamo le slab Perché tanto queste contano come blocco normale E ci danno anche un po' di spazio in più sinceramente Ma soprattutto Sprechiamo quello legno Quindi volete mettere che è molto più figo come cosa Ovviamente ci conviene tipo chiudere il tutto con della roba Che in questo caso sono le nostre fence Almeno riusciamo a sistemare Però il problema delle fence ragazzi è il fatto che siano uguali di colore Quindi possiamo optare per la soluzione più figa secondo me E anche quella più bella Che sarebbe quella di tipo posizionare meglio queste fence E guardiamoci che dobbiamo anche tornare in realtà a minare Perché avevo lasciato un po' la minata lì semplicemente sospesa Quindi devo anche fare quella roba In teoria se non ricordo male Dovrebbero essere due gicocche nere e una gicocca gialla e mezzo Mi darà tipo un paio di queste Quindi perfetto C'abbiamo un po' di roba Ovviamente abbiamo anche qualche pulsante Più che altro ce ne servono ancora un paio di pulsanti Perché non va bene E in realtà sono stupido perché stavo qui dietro Quindi sono stupido io che penso cose Però ne faccio altre Va bene E nel frattempo ovviamente possiamo tipo rompere questo coso Utilizzare sempre quella cosa che vi dicevo Che è molto figa per fare le pokeball Perfetto Comunque l'importante per il momento è magari farci almeno un po' di cibo Farci questa roba che abbiamo qui che sono i nostri bottoni E più che altro forse qualche pulsante ce l'avevo già Però a questo punto conviene anche farsene un paio di più Visto che ci siamo Tanto serviranno sempre Quindi andiamo prima di tutto a farci un po' di cibo Così almeno siamo sicuri di avere del cibo Tranquilli e leggeri Oh che bello finalmente possiamo mangiare E una cosa che voglio provare anche sinceramente Utilizzando questo coso E vedere se riesco a fare un passaggio Che mi permette addirittura di scendere ragazzi giù nell'albero Perché questo perché per esempio qua io ho un albero che tipo va più o meno su quattro strati Va bene nel senso che io ho questa cosa Quindi pensavo ma se io utilizzo la chisel e faccio tipo un buco qua al centro in questa maniera Ok In realtà io poi ci potrò entrare qui dentro perché forse tipo se faccio un buco per quattro In teoria potrei pur sempre passarci Bene adesso con un po' di bottoni Se io ce li ho da qualche parte Non qua li ho messi qua probabilmente Tac possiamo farci ben tre ultra Che potremmo utilizzare per poter catturare qualche leggendario nel caso dovesse capitare di trovarne qualcuno in giro Cosa improbabile Ma ehi non si sa mai Comunque dobbiamo trovare sopra ragazzi e andare a rompere un pochetto di quella roba lì Perché voglio vedere fin dove riesco a trovare la roba E più che altro voglio capire se riesco tipo a fare magari dei cubi più grandi di questi Perché questi sono grandi ok Però magari qualcosa di meglio si può sempre trovare Tipo non so un cubo più grande o tipo anche qualche parte così connessa si può fare Beh potrei sempre scendere in effetti così ragazzi e arrivare fin dove devo arrivare Tranquillamente Ok per sapere adesso siamo arrivati alla fine Andiamo a buttare un po' di questa roba che in realtà non ci serve E ci viene per soltanto la dirt finale che è tipo quella che ho recuperato adesso Quindi adesso se vado a rompere magari questo pezzo ragazzi vi faccio vedere Vabbè a parte abbiamo un casino di entità qui in mezzo che dovremmo tipo recuperare e buttare via Abbiamo tipo un casino di spazio figo per noi che abbiamo recuperato tranquillamente Quindi perché no Però abbiamo creato una cosa fantastica che possiamo utilizzare Prima è che non so come si gira ragazzi sapete Oddio ho appena buttato questo E sì non ho problemi ragazzi che non so davvero come si gira Quindi o faccio così Ok tipo in questa maniera così posso piazzarli E così tac tac Qui dentro c'è roba In realtà a noi servirebbe tipo scendere Quindi di qua per esempio dobbiamo fare un ingresso Che tipo ci può piacere Sono riuscito nell'impresa più o meno L'idea è che quindi qua rimane più o meno fatto così E dovrei riuscire a passare senza problemi fuori E da fuori giustamente nessuno dovrebbe vedere niente O almeno non si dovrebbe vedere questo ingresso Cioè tipo la gente sa che qua c'è un ingresso che è questo qua E basta Anzi per renderlo un pochetto più utile direi che possiamo fare in questa maniera Tipo così Perfetto E magari di qua facciamo giustamente un giro con le slab Possibilmente se trovassi qualche altra slab da qualche parte Cosa che non ho perché ho finito le slab Benissimo È il momento della verità Ci passeremo oppure no Ci passiamo ragazzi Fantastico Fantastico Quindi come potete vedere abbiamo risolto il problema Ora Una cosa che mi preoccupa è l'acqua ci passa oppure no E speriamo di sì Perché se no in caso contrario dobbiamo utilizzare altri metodi più utili Per attutire la caduta Che sarebbe tipo utilizzare delle slime Il problema è che le slime dove si trovano Credo dai mack probabilmente Quindi dobbiamo andare in giro in realtà verso vari posti E proviamo magari l'acqua ragazzi Quindi vediamo un attimo se riesco a fare tre di questi Faccio un bel secchiello In questa maniera E proviamo a recuperare un po' d'acqua qua la riva Tanto poi si rigenera Perfetto Vediamo un po' Se io mettersi l'acqua qui in mezzo Vedete qua Non la posso mettere Ok quindi Non si può fare Sotto Si potrebbe fare Ovviamente non si vede nemmeno E quindi potrei attutire la caduta Si spera Più o meno si Credo forse C'è bisogno di più spazio Non lo so Vediamo un po' Vediamo Mi butto ragazzi Ok vedete E ovviamente il problema è che tipo Abbiamo bisogno di più spazio Ovviamente se mettiamo qualche blocco lì sotto Probabilmente l'acqua se ne va Quindi ci conviene tipo Per ora Restare così Sono tornato al web point Del pokestop Perché in teoria qui dentro Adesso potrei recuperare un po' di roba Dovrebbero essere passati minuti No non sono ancora passati Mancano ancora 179 secondi Diamine Sono tre minuti Forse questo non è ciancato Forse per quello che tipo Perdo tempo Vabbè non lo so Comunque posso In teoria andare a catturare Un paio di pokemon E un pokemon che potrei catturare Che voi mi avete detto E aggron Aggron si dovrebbe trovare Più o meno In un posto decente Ciccurità Beh non mi interessa In realtà come pokemon Uh però Un boss raro Ehi 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 Tu Ti shotto mica C'è voglia di shotto Vai attacco d'ala Ok solar beam Stavo utilizzando Quindi ho forza Shottarlo Perfetto Quindi ho shottato E mi ha dato Infestion Infestazione tipo Non so che mossa sia Va bene però Un po' di cose ce le ha date Quindi gg E boh non ho voglia di aspettare Un po' di minuti là Quindi lasciamo perdere Però ecco una cosa che devo fare Siamo andando a uccidere Un paio di marip ragazzi Perché mi serviranno Delle robe Per la cisela in bits Infatti mi danno la lana A loro ragazzi Quindi meglio evitare Di andare sempre in giro Con la roba della cisela in bits A meno se facciamo qualcosa Di utile Che funziona bene Ok tre lani solamente Tornata a qualche stop Mi ha dato tipo Il nostro upgrade A alito gelido E onda shock Problema Non mi ha ancora dato Sto benedetto coso Che io volei Che sarebbe in sostanza Una Un egg Che non è niente male Mi sa che forse gli egg Sono davvero pochi Rispetto a quello Che puoi recuperare normalmente Quindi Forse lì ti limita parecchio Come cosa Peccato perché sicuramente Sarebbe stato bello Un ladybug Potrei shottarlo Oppure potrei andare in giro A cercare dei pochi stop Sì dai troviamo un altro Oh ragazzi Ne ho trovati due vicinissimi La fortuna Mi sembra che siano anche Quelli più grandi O forse No Dio come tre Tre così vicini Ammazza Un culo Vabbè Meglio per noi ragazzi Che sono vicini Là vedo un altro Forse ne vedo O sbaglio Sì ne vedo un altro Guarda Quanti ne sono sporati qua Forse è il deserto Che è un po' Bancato Vabbè Shal ragazzi Non è un problema Vediamo un po' Cosa ci vuole trovare Qui dentro Allora c'è il primo qua Che ci da Mi ha dato gemma E roba Più o meno inutile Tipo Mentre il sismico Ce l'avevo Mi ha dato centri pugno Che non è male Va bene Poi vediamo un po' Da qua cosa c'è C'è un altro E l'ingresso È sempre con l'ossidiana Va bene Oh mi ha dato Palla ombra Falce cannone Battiterra Però niente Di quello che mi serviva Cioè tipo Darmi un egg Che potrei utilizzare No è troppo difficile Mi dicono E vabbè Forse è tipo C'è davvero percentuale bassina Di trovare l'eg Però averne tre vicini Ragazzi È una grande figata Mi ha dato adesso Oh eccolo qua L'uovo da 5 km ragazzi Finalmente Abbiamo fatto quindi 5 metri E adesso possiamo farlo Expare Oh guarda Mi ha dato pure Che altra roba Brucia tutto Che nuovamente Veleno puntura E vabbè Il resto no Bomb E quindi questo adesso Si romperà pian piano ragazzi Più metri faremo Più questo Si andrà a schiudere Diciamo Quindi grande figata Quindi per ora Ci faremo un attimo qua Perché mettiamo qua Un waypoint Ho scritto Poche stop Tre Perché sono tre poche stop E ne vedo un altro lì Che sembra essere diverso dagli altri Più che altro è uguale a quello mio Forse lì dentro c'è qualcosa di meglio Non lo so Vediamo un po' Ne ho trovato un altro anche sulla costa Ed è questo qui Magari ci posso constare Raptor e recupero un po' di roba Anche perché ci sono degli Sheldr che stanno picchiano tra loro E abbiamo trovato dentro Un taunt Un uomo da 2 km E questo è un po' più facile Da recuperare Sinceramente E un po' di altre cose Comunque siamo a tipo 2 km più o meno Di percorrenza Quindi Più a più non risponderemo Magari però Ragazzi lo facciamo nella prossima puntata Quindi per ora io vi saluto Torno a casa Anzi per me so se sta cosa Ma se io torno a casa adesso Non è che tipo col TP Mi fa più chilometri No mi sa di no No infatti non li aggiunge Perfetto Meno male Quindi ragazzi Io per ora vi saluto Metto questa roba da parte Perché abbiamo comprato un sacco di robe E datemi in questo video Nel commento Cosa ne pensate Di questa nuova cosa Con i Pokestop Che sono niente male Magari diminuiscono un pochetto La loro Diciamo uscita Così magari non abbiamo così Troppi vicino casa E siamo a posto Ciao ragazzi Noi siamo presto Un nuovissimo video Della Pixelmon Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi